... Streetnews.it, siamo qui all'evento La Liberazione dei Sogni con il Nigno Nero. Allora, che cosa ci dici in merito ai tuoi sogni? Quali sono? Se ne hai realizzati alcuni, se ne hai tanti ancora da realizzare, parlaci un po' di te. Allora, io innanzitutto, quando appena sono arrivato qua a Napoli, mi sono innamorato della canzone napoletana. Bello! Infatti, io all'inizio facevo il karaoke nei locali, poi a Carnevale cantai a discoteca Nino D'Angelo. La mia ragazza disse, ma perché non ti metto caschette Nino D'Angelo? Ah, così mi metto caschette Nino D'Angelo, il delirio del pubblico. Allora, vabbè, allora mi sentivo più molto integrato. Capito? E dunque i sogni iniziavano a prendere il volo? Infatti Nino D'Angelo diceva sempre questo, che i sogni aiutano a vivere e a lottare per quello in cui si crede. Si dice che fin quando che uno sogna, significa che è giovane dentro perché ha voglia di battersi per poterli vedere realizzati. Se invece uno non sogna, significa che non ha niente dentro. Allora, a questo punto, dopo queste belle parole, ci vuole la canzone. Sei pronto? Certo. Vai! Vai, dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai, cercando quello che hai, poi col vento parlerai. Viamo, Aiu, forza Napoli! Bravo! Allora, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Ciao a tutti i lettori di Street News. Un bacio dal Nino Nero. Grazie, ciao. Grazie. Grazie a tutti.